L'incubo Covid arriva nelle scuole di Pomezia. Uno studente del liceo Pascal e un alunno della primaria Trilussa sono risultati positivi. La ASL Roma 6 ha immediatamente posto in isolamento domiciliare le classi coinvolte e disposto la sanificazione degli spazi. Inoltre è in costante contatto con i dirigenti scolastici e con le famiglie, rispettando tutte le procedure del protocollo. «Eravamo preparati a situazioni di questo tipo», dichiara il sindaco Adriano Zuccalà. «Sappiamo che è possibile limitare il contagio seguendo tutte le prescrizioni previste, ma non è possibile eliminarlo. Ascolto continuamente la ASL per avere aggiornamenti sui ragazzi positivi e su quelli in isolamento. Rinnovo l'invito a tutti i concittadini a rispettare le regole, a indossare sempre la mascherina, anche all'aperto, e a evitare assembramenti. Al momento Ardea risulta l'unico comune del litorale a non avere ancora chiuso alcun plesso in seguito a casi di positività al Covid.